Ho qui due mele, due uova e due banane. Aggiungerò anche mezzo bicchiere di latte. Metterò il coperchio e accenderò. Ora aggiungerò una tazza di zucchero e anche tre cucchiai di burro. Ora diamo un'altra mescolata. Guardate ragazzi, ora mescoleremo bene, per mischiare bene e per farlo diventare liscio. Guardate come diventa l'impasto! E ora aggiungeremo un cucchiaio di lievito. Ragazzi, potreste chiedervi perché non ho ancora messo il lievito? In realtà lo metto sempre dopo, quando l'impasto è ben miscelato. Questo per non perdere l'effetto. Guardate, non è necessario mescolare perché non va bene. Quindi quando siate quasi pronti a togliere l'impasto e finirlo e quando è ben mescolato, allora mettete il lievito e mescolate un'altra volta per non perdere l'effetto. Guardate, questi pezzettini qui sono i pezzettini della buccia della mela, ragazzi. Questo dà anche un tocco speciale. Un fascino, diciamo. Un bel colore che diventa molto carino, molto bello. Fallo a casa tua e non te ne pentirai. Ed è molto buono. Guarda com'è venuto. Ora trasferiremo nella nostra forma, così. Ho già spalmato burro e farina nella forma. Quindi è già pronta. Ne mettiamo un po' qui e lo facciamo andare qui e vedrete che sarà molto gustoso. Guardate, ragazzi. Oh sì, è diventato così bello. Ora lo metto nel forno a 180 gradi per 30 minuti. E poi vi mostrerò il risultato di questa bellezza. D'accordo? Bene, ragazzi. Guardate la nostra torta. E ora la sformiamo. Metto il piatto. E sformiamo. Guardate com'è venuta. È perfetta. Molto buona davvero. È arrivato il momento. Assaggeremo la nostra torta. Torta di miele e banane. Una combinazione perfetta. Guardate qui. Guardate quanto è soffice. Guardate qui. Guardate qui. Qui, guardate qui. Grazie.